Ciao a tutti, sono Andrea di scommesse.commenti e recensioni.com e prima di iniziare con i pronostici della 29esima giornata di Serie A vi invito ad iscrivervi al nostro canale e condividere il più possibile in questo modo non vi perderete neanche un pronostico, una strategia o le nostre guide sui bookmaker con licenza DM Passiamo ora ai pronostici della 29esima giornata di Serie A che cominciano con Sampdoria Juventus X2 Doriani riduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro Udinese mentre i bianconeri che arrivano dall'importantissima vittoria a corto muso contro lo Spezia grazie al gol di Morata Analizzando attentamente lo stato di forma delle due compagini crediamo che la Juve non vada a perdere in quel di Genova quindi puntiamo sulla doppia chance X2 Seconda partita Milan-Empoli 1 Rossoneri primi in classifica grazie alla fondamentale vittoria esterna per 1-0 contro il Napoli Spalletti Toscani riduci dallo 0-0 contro il Genoa di Blessin Questo Milan ci sembra lanciatissimo e secondo noi andrà a vincere in casa contro l'Empoli Indi per cui mettiamo su uno fisso pagato 1-37 volte la posta su SNAI Terza partita Verona-Napoli X2 Scaligeri che arrivano dal pareggio esterno per 1-1 contro Fiorentina Campani riduci della presente sconfitta Casalinga per 1-0 contro il Milan Verona fu già fatale per il Napoli nella passata stagione con il gol di Faroni per l'1-1 che di fatto esclusa i partenopei dalla Champions A nostro avviso comunque il Napoli non andrà a perdere al Bentegodi quindi noi scommettiamo sulla doppia chance X2 Ultima partita Torino-Inter X2 Granata riduci dal pareggio esterno a reti inviolate contro il Bologna Nerazzurri che arrivano dalla Roboante vittoria per 5-0 contro la Sernitana Gara dal tasso di difficoltà sicuramente elevato per l'Inter impegnata questa settimana pure nel ritorno di Champions ad Anfield che comunque secondo noi non andrà a perdere a Torino quindi la nostra bet va anche qui sulla doppia chance X2 ovvero pareggio o vittoria Inter Passiamo ora ai risultati esatti della 29esima giornata di Serie A cominciando con Sampdoria Juventus dove abbiamo pronosticato il risultato esatto di 0-1 o 0-2 pagati 7-25 e 8-50 su SNAI A seguire poi Milan-Empoli pronosticato 2-1 o 1-0 pagati 8-40 e 7 su Marathon Bet Ultima partita Verona-Napoli pronosticato l'1-2 o 1-1 pagato 8-50 e 6-25 su Robet Prima di concludere alcuni consigli extra per la 29esima giornata di Serie A cominciamo con Salernitana-Sassuolo X2 a seguire Fiorentina-Bologna 1X Atalanta-Genua 1X e Lazio-Venezia 1X Per oggi è tutto In descrizione troverai link alle pagine dei nostri pronostici e maggiori informazioni su SNAI Ti invito ad iscriverti al nostro canale e condividere lo più possibile per non perdere i prossimi pronostici sulla Serie A ma anche strategie scommesse e tutorial per i pellevi depositi di denaro su migliori siti scommesse con licenza ADM Il video è finito, buone scommesse!